Buongiorno ragazzi, stiamo vivendo un periodo difficile, ma tutto andrà bene se restiamo a casa e seguiamo le regole. Io intanto vi lancio una sfida per sentirci più vicini. Col piede meno abile bisogna fare dieci palleggi e canestro finale nella bacinella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.